Ma che f***o che parte ti vedano? E' brucianza, sanzilvestro, roba vecchia, che fenestro! Qua sotto, aperto! Maledetti! Che vergogna! Forza, è spiovuto! Ripiove! Al mattino di Capodanno queste scene sono comuni a molte città italiane. La notte di San Silvestro nessun oggetto vecchio è stato risparmiato. Le strade sono ingombre e i netturbini alle prese con un super lavoro fuori dell'ordinario. Troviamo cocci, armaggi, sedie, tavoli, bottiglie, bombete e tanta e tanta altra roba, bicchieri. Vasi, bottiglie, cocci, armati, tavole e altra altra roba. Pezzi di legna, bombe, tutta altra roba. Manici, sedie rotte, ferro vecchio e tanta, tanta, tanta proprio. La gioia dell'attesa ricorrenza può determinare pericoli che spesso vengono dimenticati e possono andarci di mezzo, oltre alle cose, anche le persone.